il matrimonio del tenente la re proprio all'inizio della campagna il tenente la re prese ai plussiani due cannoni il suo generale gli disse grazie tenente e gli diede la medaglia al valore siccome era prudente quanto valoroso accorto di spirito inventivo pieno d'astuzie e di risorse gli fu affidato un centinaio d'uomini ed egli organizzò un servizio di esploratori che nelle ritirate salvò parecchie volte l'esercito ma come un mare stralipato l'invasione entrava attraverso tutta la frontiera erano grandi ondate di uomini che arrivavano gli uni dopo gli altri zettando all'intorno una schiuma di saccheggiatori la brigata del generale carrel separata dalla sua divisione indietreggiava continuamente battendosi ogni giorno ma si muoveva quasi intatta grazie alla vigilanza e alla celerità del tenente la re che sembrava essere dappertutto contemporaneamente sventava tutti gli stratagemmi del nemico ne eludeva le previsioni ne sviava gli ulani ne uccideva le avanguardie una mattina il generale lo fece chiamare tenente disse ecco un dispaccio del generale della sere che è perduto se non arriviamo in suo aiuto domani allo spuntar del sole egli si trova a blindville a otto leghe di qui partirete sul far della notte con 300 uomini che scaglionerete lungo tutto il percorso vi seguirò due ore dopo studiate la strada con cura ho paura di incontrare una divisione nemica sarà un forte gelo da otto giorni alle due la neve cominciò a cadere a sera la terra ne era coperta e spessi turbini bianchi celavano gli oggetti più vicini alle sei il distaccamento si mise in cammino due uomini procedevano in perlustrazione soli 300 metri innanzi poi veniva un plotone di dieci uomini che il tenente comandava di persona il rimanente avanzava dietro su due lunghe colonne a 300 metri sui fianchi della piccola schiera a destra e a sinistra alcuni soldati camminavano affiancati a due a due la neve che cadeva sempre li incipriava di bianco nell'ombra non si scioglieva sui loro vestiti di modo che essendo la notte scura essi macchiavano appena il pallore uniforme della campagna di tanto in tanto sostavano allora non si udiva più quell'indefinibile fruscio della neve che cade più sensazione che non rumore mormorio sinistro e vago un ordine veniva trasmesso sotto voce e quando la truppa si rimetteva in cammino essa lasciava dietro di sé una specie di fantasma bianco ritto nella neve questo svaniva poco a poco e finiva con lo sparire erano gli scaglioni viventi che dovevano guidare l'esercito gli esploratori rallentarono la marcia qualcosa si ergeva davanti a loro andate a destra disse il tenente quello è il bosco di ronfi il castello si trova più a sinistra subito la parola alta circolò il distaccamento si fermò e attese il tenente che accompagnato da soli dieci uomini si spingeva in ricognizione sino al castello e si avanzavano strisciando sotto gli alberi improvvisamente tutti rimasero immobili una calma spaventosa si librò su di loro poi vicinissimo una vocina chiara musicale giovane attraversò il silenzio del bosco essa diceva padre ci perderemo nella neve non arriveremo mai a blenville una voce più forte rispose non avere nessun timore bambina conosco il luogo come le mie tasche il tenente disse alcune parole e quattro uomini si allontanarono senza rumore simili a ombre all'improvviso un grido di donna si levò acuto nella notte due prigionieri furono condotti un vecchio e una fanciulla il tenente li interrogò sempre sotto voce il vostro nome pier bernard professione maggiordomo del conte di ronfi questa è vostra figlia sì che cosa fa guardarobiera il castello dove andare scappiamo perché dodici ulani sono passati stasera hanno fucilato tre guardi e impiccato giardiniere io ho avuto paura per la piccola dove andate a blenville perché perché là c'è un'armata francese conoscete la strada perfettamente benissimo seguiteci raggiunsero la colonna e la marcia per via traverse e ricominciò silenzioso il vecchio stava a fianco del tenente la figlia camminava accanto a lui all'improvviso e la si fermò padre disse sono così stanche che non posso andare più oltre e si sedette tremava di freddo e sembrava sul punto di morire il padre vuole prenderla in braccio era troppo vecchio e troppo debole signor tenente disse singhiozzando vi intralceremo la marcia la francia innanzitutto lasciateci l'ufficiale aveva dato un ordine alcuni uomini si erano allontanati tornarono con dei rami tagliati allora in un minuto fu fatta una lettiga l'intero distaccamento li aveva raggiunti qui c'è una donna che muore di freddo disse il tenente chi vuol dare il proprio mantello per coprirla 200 mantelli furono slacciati chi vuol portarla ora tutte le brazza si offrirono la ragazza fa volta in quei caldi cappotti militari colicata dolcemente sulla lettiga poi quattro robuste spalle la sollevarono e come una regina d'oriente portata dai suoi schiavi ella fu collocata in mezzo al distaccamento che riprese la marcia più vigoroso più coraggioso più svelto riscaldato dalla presenza ad una donna questa sovrana ispiratrice che ha fatto compiere tanti progressi al vecchio sangue francese dopo un'ora si fermarono di nuovo e tutti si stessero bocconi nella neve laggiù in mezzo alla pianura una grande ombra nera correva sembrava un mostro fantastico che s'allungava come un serpente poi di botto si aggomitolava si slanciava vertiginoso si fermava ripartiva senza tregua tra gli uomini circolavano ordini sussurrati e di tanto in tanto schioccava un piccolo rumore secco e metallico la forma errante si avvicinò bruscamente e si videro arrivare in gran trotto uno dietro l'altro dodici ulani perduti nella notte un bagliore terribile mostrò loro di botto duecento uomini stesi davanti a loro una rapida detonazione si perse nel silenzio della neve e tutti e dodici con i loro dodici cavalli caddero si attese a lungo poi si si rimise in marcia il vecchio che avevano trovato faceva da guida finalmente una voce lontanissima gridò chi va là un'altra più vicina rispose con una parola d'ordine si attese ancora si intavolavano negoziati la neve aveva smesso di cadere un vento freddo spazzava le nuvole e dietro a queste più in alto innumerevoli stelle scintillavano e se in pallidirono il cielo divenne rosa a oriente un ufficiale di stato maggiore venne a ricevere il distaccamento ma come domandava chi portassero su quella lettiga e s'assagitò due manine scosterono i grossi mantelli azzurri e rosa come l'aurora con due occhi più chiari di quanto non fossero le stelle scomparse e con un sorriso illuminante come il giorno che sorgeva un viso grazioso rispose me signore i soldati pazzi di gioia batterono le mani e portarono la ragazza in trionfo in mezzo all'esercito accampato che si preparava all'azione poco dopo arrivava il generale carrel alle nove i prussiani attaccavano batterono in ritirata a mezzogiorno la sera mentre il tenente la re disfatto dalla stanchezza si addormentava su una balla di paglie vennero a chiamarlo da parte del generale lo trovò sotto la sua tenda in conversazione con il vecchio che gli aveva incontrato quella notte non appena egli fu entrato il generale lo prese per la mano e rivolgendosi allo sconosciuto mio caro conte disse ecco il giovanotto di cui mi parlavate dinanzi è uno dei miei migliori ufficiali sorrise abbassò la voce riprese il migliore poi volgendosi verso il tenente sbalordito presentò il conte di l'onfiche di sac il vecchio gli prese entrambe le mani mio caro tenente disse voi avete salvato la vita di mia figlia ho un solo mezzo per ringraziarvi verrete tra qualche mese a dirmi se la vi piace esattamente un anno dopo nella chiesa di santo maso d'aquino il capitano la re sposava la signorina louise hortense genevieve de ronfiche di sac e la portava 600 mila franchi di dote ed era si diceva la più bella sposa che si fosse vista quell'anno Grazie a tutti.